Salve Bordomi, per Liberi di Fu, questa situazione del lungomuro, cosa pensate eventualmente di fare? Ma intanto noi lavoriamo per tutto il municipio, non solo per il lungomuro, a parte che il lungomuro, chi lo dice, diciamo c'è un lavoro che bisogna fare urbanistico di pianificazione anche della gestione delle spiagge attraverso il CUA, quello sarà uno degli argomenti che si deve fare necessariamente con il comune e con la regione, perché la competenza in minima parte del municipio deve essere il comune che delibera e che poi manda alla regione, questo è uno degli argomenti che abbiamo e poi faremo tante altre cose, ma soprattutto fa ripartire la manutenzione in questa città, la pulizia, il verde, anche un rilancio turistico economico, perché insomma il mare di Roma deve essere anche un valore aggiunto dal punto di vista economico. Io più che il lungomuro parlerei di come sono state gestite le spiagge del comune, Castelporziano, Capocotta, le spiagge libere di Nuova Ostia. Grazie a tutti.